Maria De Filippi piange a Tussicche Valles, il famoso programma televisivo di Canale 5, il Talent Show. Accadde poco tempo fa, la bella Maria De Filippi infatti pianse per, diciamo così, causa di un bambino di nome Davis Masini. Questo ragazzino, pensate che cantò benissimo, aveva questo dono meraviglioso e il suo sogno era appunto quello di ballare e cantare alla scala di Milano. Così la bella, brava e simpatica Maria De Filippi gli avrebbe detto che suo papà, che purtroppo non c'è più, ovunque sia sarebbe orgoglioso di lui, di questo piccolo bambino. A quelle parole il piccolo Davis per l'appunto si mise a piangere, scoppiò, scusate, in un pianto liberato, in un pianto veramente incredibile che ovviamente fu ripreso a più mandate dalla telecamera che indugiò molto anche però Sludi Zerbi, Giariscotti e Belen Rodriguez, tutti e tre in lacrime, ma anche, soprattutto, sulla bella, brava e simpatica Maria De Filippi che andò poi incontro al buon Davis Masini, lo abbracciò e per l'appunto uscirono dalle sue guance, dalle sue, dai suoi occhi, delle lacrime di commozione totale. Io vi ringrazio per il gentile ascolto, cari utenti di YouTube, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un caro saluto a voi tutti.